Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno tratto in arresto un anziano residente nell'Interland napoletano per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Le indagini delle fiamme gialle hanno avuto origine dalla denuncia per truffa avanzata da un istituto bancario cilentano dove un distinto signore, in ragione di un investimento immobiliare in zona, si era presentato per porre all'incasso assegni per oltre 100 mila euro. Effettuata l'operazione, lo stesso ha subito smistato i soldi su conti correnti riconducibili a soggetti prestanome prima di far perdere le proprie tracce. Le indagini svolte dai militari della tenenza di ballo della Lucania hanno consentito di appurare che presso lo sportello bancario si era presentato l'uomo classe 1941 pluripregiudicato specialista delle truffe il quale aveva tra le mani i titoli di credito rigorosamente falsi così come il documento d'identità utilizzato. L'analisi delle motivazioni bancarie ha consentito di ricostruire il percorso del denaro frodato all'istituto di credito nonché di risalire alla reale identità del truffatore. Così durante la perquisizione domiciliare disposta dall'autorità giudiziaria procedente è stato rinvenuto un vero e proprio laboratorio per la realizzazione di carte d'identità false. Inoltre nonostante il soggetto risultasse già destinatario di un provvedimento di divieto di possedere o utilizzare riproduzioni di armi di qualsiasi tipo compresi giocattoli riproducenti armi e altre armi o strumenti in libera vendita emesso dal questore di Napoli deteneva presso la propria abitazione due pistole giocattolo con proiettili a salve e prive del tappo rosso oltre ad un lampeggiante blu simile a quelli di uso delle forze di polizia utile alla perpetrazione di ulteriori reati o a deludere eventuali controlli di polizia su strada tanto è bastato per far scattare l'arresto d'iniziativa in flagranza di reato nei confronti dell'anziano truffatore con l'accusa di detenzione e formazione di documenti di identificazione falsi oltre che per possesso in debito di segni distintivi in uso ai corpi di polizia ed in ottemperanza ai divieti disposti dal questore. Sottoposto al processo con giudizio direttissimo è stato condannato a due anni e venti giorni di reclusione con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.